Nuova edizione di Spazio e Notizia, ben ritrovati su Sicilia 24, la cronaca in primo piano con una notizia da Palermo. La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 39enne accusato di avere rapinato un'anziana signora a Palermo. Il fatto è avvenuto lo scorso 2 novembre nei pressi dell'ufficio postale di Via Rocco Pirri. Il malvivente ha seguito la donna che aveva appena prelevato la pensione. Dopo averla spinta le ha sbattuto più volte la testa sui gradini causandole gravi lesioni alla testa e alla faccia, una ferita a un braccio e la frattura di una vertebra. Poi è fuggito via rubandole circa 600 euro. Il rapinatore è stato però incastrato dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona che hanno ripreso l'aggressione e agevolato le forze dell'ordine nella cattura del 39enne. Ci spostiamo adesso nel messinese, cambiamo decisamente argomento, parliamo purtroppo di un tragico incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada A20. La vittima è un 47enne di Barcellona Pozzo di Gotto il quale ha perso la vita in seguito a un impatto avvenuto nei pressi dello svincolo per Milazzo. Secondo una prima ricostruzione l'uomo avrebbe perso il controllo della sua auto andando poi a sbattere violentemente. Si tratterebbe dunque di un incidente autonomo, magari causato dall'acqua, causato dalla pioggia. Cambiamo ancora argomento, ci spostiamo adesso nella Siracusano, per la precisione a Noto e Siracusa. Sono due gli arresti effettuati dai carabinieri, si tratta di uno stalker e di una donna invece accusata di furto. Il servizio. I carabinieri della stazione di Siracusa a Belvedere hanno arrestato, su ordine dell'autorità giudiziaria, un pregiudicato siracusano di 37 anni che nel 2019 si era reso responsabile di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. dopo l'interruzione della relazione voluta dalla donna, il soggetto aveva a più riprese perseguitato, maltrattato e picchiato la vittima. Al termine delle indagini condotte dai carabinieri e alla fine del procedimento penale è arrivata per l'uomo la condanna. Rintracciato e arrestato dai militari dell'arma di Belvedere dovrà espiare la pena di tre mesi di carcere così come disposto dall'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento. I carabinieri della stazione di Noto hanno invece arrestato una 54enne del posto in ottemperanza a un'ordinanza per l'esecuzione pena emessa dalla Procura della Repubblica Ufficio Esecuzioni Penali di Torino. La donna, che dovrà scontare un anno e due mesi di reclusione per furti commessi nel 2015, è stata condotta presso il domicilio in regime di detenzione domiciliare. E a proposito di furti a Catania, i carabinieri hanno invece tratto in arresto un giovanissimo ladro, un 19enne che aveva rubato un giubbino all'interno di un negozio in via Etnea. Il servizio. I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno tratto in arresto un 19enne tunisino, già noto alle forze dell'ordine, per il reato di rapina. I militari sono intervenuti in via Etnea a seguito della richiesta di intervento pervenuta al numero unico di emergenza 112 da parte del responsabile della sicurezza di un negozio di abbigliamento che segnalava una rapina appena consumata. I militari dell'arma hanno tempestivamente raggiunto l'attività commerciale dove hanno trovato ad attenderli il segnalante, il quale con i suoi uomini era in gran difficoltà a contenere il giovane esagitato, identificato poi nel 19enne. Quest'ultimo, dalla ricostruzione dell'accaduto effettuata dai carabinieri, dopo aver prelevato un giubbino in esposizione, ha raggiunto le casse e dopo aver oltrepassato le barriere antitaccheggio causando l'attivazione dell'allarme antifurto, è riuscito a dileguarsi strattonando un addetto alla sicurezza che intanto era intervenuto poiché attirato dall'allarme sonoro. Tuttavia il tentativo di fuga è stato vano in quanto gli addetti alla sicurezza, con non poche difficoltà, sono riusciti a bloccare il fuggitivo e a ricondurlo all'interno del negozio dove intanto sono intervenuti i carabinieri che si sono occupati di ricondurre alla calma il tunisino in preda a un forte stato di agitazione, recuperando il giubbino del valore commerciale di 325 euro che recava ancora la tacchetta antitaccheggio e quindi restituendolo al responsabile dell'esercizio commerciale. I militari dell'arma hanno posto il 19enne a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto e ha disposto la misura dell'obbligo di dimora nel comune di Catania. Ed ora a Trapani parliamo di quanto accaduto nei giorni scorsi, ovvero dell'aggressione ai danni di una donna ucraina di 44 anni. Un uomo è stato fermato nella notte a Trapani dopo che la squadra mobile ha visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza situati nell'area delle mura di Tramontana, dove, come detto, una donna ucraina, una 44enne senza fissa dimora è stata massacrata di botte e forse violentata. Ieri mattina alcuni cittadini avevano segnalato una panchina sporca di sangue sulla strada che costeggia le antiche mura. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore di Trapani, Brunella Sardoni. Ed ora a Gran Michele, nel Catanese, dove sono stati arrestati due minorenni, avevano rubato lo scooter, picchiato il proprietario del veicolo e poi minacciato anche i carabinieri. Tutti i dettagli nel servizio. Su delega della Procura della Repubblica di Catania, i carabinieri della stazione di Gran Michele, supportati da personale dello squadrone eliportato Cacciatori Sicilia, hanno dato esecuzione a un provvedimento di custodia cautelare in istituto penale per minorenni emesso dal GIP del Tribunale per i minori di Catania nei confronti di due giovani di Gran Michele di 16 e 17 anni per il reato di rapina aggravata in concorso. La vicenda ha avuto origine nella serata dello scorso 9 novembre, allorché una pattuglia della stazione di Gran Michele aveva notato in via Fratelli Rizzo un giovane intento a spingere uno scooter, il quale, sottoposto a controllo, si era dato alla fuga approfittando dell'oscurità. I militari quindi, coadiuvati da una pattuglia della sezione radiomobile della compagnia di Caltagirone, avevano rintracciato poco distante quel giovane, poi rivelatosi essere minorenne, il quale, insieme a un coetaneo, stava malmenando un 44enne del posto. Il provvidenziale intervento dei carabinieri ha così permesso di porre fine alla violenza che comunque ha purtroppo cagionato al malcapitato una prognosi di 35 giorni come diagnosticato dai medici del pronto soccorso dell'ospedale di Caltagirone. Le indagini si sono avvalse dell'escussione di testimoni, della disamina delle immagini dei numerosi impianti di videosorveglianza della zona, nonché addirittura di riprese video effettuate da privati cittadini che hanno consentito di ricostruire la dinamica degli eventi. Il 44enne, infatti, sarebbe stato vittima di una rapina da parte dei due minorenni, essendo stato minacciato con un coltello e costretto a consegnare loro il proprio scooter. Gli odierni indagati, poi, nonostante si fossero ormai impadroniti del motociclo, avrebbero perseguito nelle loro condotte violente malmenando il proprietario fino all'arrivo dei carabinieri. I due giovani, oltre al reato di rapina aggravata in concorso, per il quale sono stati collocati presso due diversi istituti penali per minorenni, sono indagati anche per altri reati, lesioni aggravate, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Entrambi, infatti, avrebbero ostacolato con violenza e minacce l'operato dei carabinieri, aggredendo inoltre anche un altro cittadino di Gran Michele, di 45 anni, per il solo fatto di essere stato involontario testimone delle loro malefatte. Nel corso dell'attività, oltre all'esecuzione della misura cautelare custodiale nei confronti dei due minorenni, i carabinieri di Gran Michele hanno deferito all'autorità giudiziaria minorile di Catania e a quella ordinaria di Caltagirone la cugina 19enne di uno dei due indagati e un loro compagno, un 17enne. Questi, infatti, giunti quella sera in caserma durante gli accertamenti da parte dei militari, si sarebbero anch'essi opposti all'operato dei carabinieri, minacciandoli e oltraggiandoli. La ragazza, inoltre, avrebbe danneggiato il muretto di recinzione della caserma. Ad Alcamo, nel Trapanese, i carabinieri hanno invece tratto in arresto tre ladri. Vediamo il servizio. I carabinieri della compagnia di Alcamo hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico emessa dal GIP presso il Tribunale di Trapani su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di tre uomini alcamesi per cui si è ritenuto sussistano grave indizi di colpevolezza per il reato di furto aggravato. Il provvedimento scaturisce dalle indagini condotte dai carabinieri avviate a seguito di alcuni furti in danno di esercizi commerciali perpetrati nell'ultimo mese nella città di Alcamo. Gli accertamenti condotti dai militari, a partire dagli immediati e dettagliati sopralluoghi sul luogo del reato, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico degli odierni indagati per tre distinti eventi delittuosi verificatisi alla fine di ottobre, rispettivamente in danno di due negozi di generi alimentari e della CUP dell'ASP, tutti caratterizzati dal medesimo modus operandi. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i tre, per portare a compimento le loro azioni delittuose, avrebbero forzato a mano serrande o finestre per fare accesso nei locali e asportare il denaro contenuto nei registratori di cassa o nei cassetti. Il bottino totale sarebbe di oltre 1.300 euro, oltre ai danni provocati agli infissi quantificati in alcune migliaia di euro. Al fine di eludere le investigazioni, gli arrestati avrebbero anche cercato di celare il proprio volto coprendosi con degli indumenti per evitare di essere riconosciuti nei filmati dei sistemi di videosorveglianza. Tuttavia, l'attività di analisi condotta dai carabinieri ha consentito di risalire all'identità dei presunti malfattori già noti per pregressi precedenti di polizia. Nel corso delle indagini, di concerto con la competente Procura della Repubblica, sono state eseguite delle perquisizioni domiciliari nei confronti degli stessi soggetti, le quali hanno consentito di rinvenire e sequestrare alcuni degli indumenti che sembrano essere quelli indossati nel corso dell'azione delittuosa. Gli arrestati sono stati ristretti ai domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono ancora in corso ulteriori accertamenti da parte dei militari dell'arma al fine di risalire all'eventuale responsabilità dei soggetti circa ulteriori episodi del medesimo tenore. Arrestato pochi giorni prima per spaccio di droga, evade dai domiciliari, ma finisce in carcere. Il fatto è avvenuto a Comiso, nel Ragusano. La Polizia ha intensificato i controlli a carico di soggetti residenti nel comune di Comiso, sottoposti a misure restrittive delle libertà personali. Nell'ambito di tali controlli domiciliari è stata accertata l'assenza dalla propria abitazione di un uomo arrestato circa dieci giorni fa dalla squadra investigativa del commissariato di Comiso per detenzione e spaccio di stupefacenti. Nello specifico, un cospicuo quantitativo di pasticche definite droga del combattente, pronte a essere vendute ai consumatori di oppiacei. Immediatamente i poliziotti si sono messi alla ricerca del soggetto, perlustrando le strade adiacenti all'abitazione del 33enne. Questi è stato intercettato alla guida di un ciclomotore e non essendo autorizzato dal giudice ad allontanarsi dal domicilio dove è ristretto agli arresti domiciliari, ha cercato di sottrarsi al controllo, ma in breve tempo è stato raggiunto e riaccompagnato al domicilio e segnalato all'autorità giudiziaria per il reato di evasione. Ricevuta la segnalazione dal commissariato, il giudice per le indagini preliminari, condividendo le richieste della Procura della Repubblica di Ragusa, ha emanato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere quale aggravamento ritenuto più idoneo a evitare ulteriori condotte in spregio delle norme restrittive. Lo straniero pertanto è stato associato alla casa circondariale di Ragusa. A Trapani invece il questore ha emesso nove daspo urbani nei confronti di altrettanti giovani violenti. Nei giorni scorsi il questore di Trapani ha emesso nove provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane, il cosiddetto daspo, nei confronti di altrettanti giovani, tra i quali un minorenne, che si erano resi responsabili di gravissime aggressioni a coetanei avvenute negli scorsi mesi nei pressi di alcune discoteche di Mazzara del Vallo. I ragazzi, di giovanissima età, al termine di due diverse serate in discoteca, avevano aggredito violentemente alcuni loro coetanei utilizzando addirittura dei caschi e un coltellino per motivi assolutamente banali, causando ad alcuni di essi anche delle fratture osse e delle ferite da taglio. Le indagini, immediatamente attivate dalla sezione investigativa del commissariato di Mazzara del Vallo, avevano consentito di individuare un gruppo di giovani, tutti di Mazzara del Vallo, e di denunciarli alle autorità giudiziarie di Marsala e di Palermo per i minorenni. All'esito delle indagini, alcuni di loro sono stati sottoposti a misure coercitive della libertà personale, obbligo di dimora ed obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il divieto di accesso notificato gli impedirà ai giovani, per un periodo di due anni, di accedere e di stazionare nelle immediate vicinanze di discoteche, sale da ballo e di qualsiasi altro locale o luogo all'aperto dove si tengano concerti o trattenimenti danzanti, presenti nel territorio del comune di Mazzara del Vallo, oltre che di accedere e di stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici e dei locali di pubblico intrattenimento situati all'interno dell'area delimitata del centro storico mazzarese. Pena la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8 mila a 20 mila euro. È tutto, a più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS